L'euro si muove in trading range nei confronti del biglietto verde dopo aver compiuto un veloce recupero in settimana rivedendo la soglia di 1,17 dollari. Non sono previsti imminenti aumenti del costo del denaro in Europa e per vedere il primo rialzo bisognerà attendere almeno sino a ottobre 2019. La conferma arriva da un banchiere della BCE citato dal Wall Street Journal. Il presidente Draghi aveva già promesso tassi fermi sino a metà dell'anno prossimo. Il cross euro-dollaro scambia 1,1588 dollari con la primaria di supporto vista a 1,1543. Il biglietto verde si muove con debolezza sullo yen e scambia 110,11 con un peggioramento verso la primaria di supporto vista a 109,90. Intanto a catalizzare l'attenzione del mercato resta all'evolversi del quadro diplomatico legato alle tensioni commerciali tra USA e partner internazionali. Segnali di debolezza per la sterlina che viaggia a 1,3073 dollari con un peggioramento che potrebbe aprire al primo livello di supporto stimato a 1,3052. Tuttavia una risalita della divisa britannica fino alla resistenza prossima a 1,108 dollari potrebbe essere innescata dalla Bank of England che recentemente ha cambiato il suo atteggiamento generale. Nelle ultime dichiarazioni infatti è risultato più aggressivo del previsto. L'euro è in calo nei confronti dello yen, quest'ultimo considerato valuta rifugio sulla scia dell'incertezza legata alla guerra commerciale globale dopo che si sono alzati i toni degli Stati Uniti nei confronti dei suoi partner commerciali. Il cross euro yen scambia a 127,61, debolezza che potrebbe portare ad un peggioramento fino al supporto più immediato visto a 127,20.